Un anno per la campagna, in circa tre minuti vengono raccolte tutte le principali attività promosse e realizzate dalla Giunta regionale durante l'anno appena trascorso. Il video è suddiviso per tematiche sanità, ambiente, lavoro, attività produttive, giovani, politiche sociali, ricerca, innovazione, strade e infrastrutture. Tra le principali azioni realizzate spiccano il piano per il lavoro della campagna, per il quale la primavera è previsto il corso concorso per avviare all'inserimento nelle pubbliche amministrazioni regionali circa 10.000 giovani, l'approvazione del piano ospedaliero che consente la stabilizzazione dei precari, lo svolgimento dei concorsi e la difesa dei territori, il raggiungimento di tutti i target di spesa sui fondi europei. Il 2019 è l'anno in cui vedranno la luce molte delle iniziative e degli interventi avviati e programmati nel 2018, l'acquisto di nuovi autobus e treni per il trasporto pubblico, le universiadi nel mese di luglio, i lavori per la rete stradale regionale grazie a un investimento di ulteriori 533 milioni di euro, 2,4 miliardi complessivi, gli abbonamenti gratuiti per circa 130.000 studenti, la terza annualità della programma Scuola Viva, gli investimenti per la cultura e il turismo, ulteriori interventi per la sicurezza nei quartieri e nelle città grazie all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza. Grazie a tutti.